Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida segreta stranamente specifico, cioè dovete ballare su una zipline mentre la utilizzate e nella tempesta. Quindi la prima cosa da fare è aspettare che la tempesta vi inghiotta. Dopodiché, una volta che vi trovate nella tempesta e in prossimità di una zipline, una qualsiasi è indifferente, non potete ovviamente ballare mentre la utilizzate perché se premete il pulsante per ballare non fa nulla. Quindi come si fa? Molto facile, adesso ve lo spiego e ve lo mostro, sono caduto scusate. Allora vedete, mentre io utilizzo la zipline non posso utilizzare le mot, non posso assolutamente ballare, ma vi è un piccolo trucchetto. Vi posizionate sotto la zipline così, selezionate una qualsiasi emote e premete subito il pulsante. Come vedete si usa la zipline mentre si danza e dovete fare questo all'interno della tempesta. In questo modo sbloccherete la sfida segreta.